Ed eccoci qua ragazzi, come promesso nel video in cui faremo la seconda parte della Coppa Gemma Rossa di Crash Team Racing Nitro Fueled. Statemi a sentire, finora siamo andati molto bene, in questa Coppa Gemma Rossa abbiamo già fatto due piste, Baia Crash e Grotte Mistero. Adesso siamo qui a Colle Tempesta. Se vedete i vostri avversari, dovete dirgli, togliti dalla corsia di sorpasso. Sono sempre arrivato primo ragazzi, arrivando primo aumento il punteggio. Sono a 18 punti in questa Coppa Gemma Rossa. Se concludo la terza pista e la terza gara della Coppa Gemma Rossa, vediamo a che punteggio sarò. Se riesco a totalizzare il punteggio più alto, ce la faccio. Sono fortissimo ragazzi, io sono il migliore. Il più bravo in assoluto. Abbiamo finito con questa pista, con questa gara. Vediamo quanto ho totalizzato. 27 punti ragazzi. Boia. Facciamo subito la prossima gara. Ora si fa la quarta e ultima gara della Coppa Gemma Rossa. Se riusciremo a farcela, la vinceremo la Gemma Rossa. Capite? Per vincere una Gemma dobbiamo totalizzare il punteggio più alto nelle quattro gare della Coppa. Finora siamo andati molto bene. Siamo a 27 punti. Dopo aver fatto Baia Crash, Grotte Mistero e Colle Tempesta, per fare la quarta e ultima gara della Coppa Gemma Rossa, dobbiamo fare l'ultima pista. Si chiama Piramide Papu. La Coppa Gemma Rossa ci fa le stesse piste dove abbiamo raccolto i quattro gettoni CTR rossi. A me fa impressione vedere quella barca che scivola nella cascata, però quell'indigeno sta tentando di remare per risalire. Poi state attenti alle piante carnivore, non fatevi mangiare. Perché lo sapete, le piante carnivore crescono più in fretta del bambù. Sta' attento, non ti mollano più. Vediamo anche dei bonti. Poi ci sono delle palme. Bene, pronti per l'ultimo giro. E la Gemma Rossa sarà nostra. Abbiamo completato tre gare della Coppa Gemma Rossa. E ora stiamo facendo la quarta. Mi sembra che abbiamo finito. Per oggi è tutto, ragazzi. E' così che si fa. E' così che si fa. 36 punti. Avete visto? Ci siamo riusciti e ce l'abbiamo fatta. Ora per concludere il video vi faccio vedere subito la ricompensa. Vi faccio vedere la Gemma Rossa che abbiamo vinto. Completando le quattro gare della Coppa ci siamo riusciti. Abbiamo totalizzato il punteggio più alto e si è fatto 36 punti. Eccola! La Gemma Rossa è tutta nostra. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Potete anche condividerlo se volete. Ok vi saluto abbiamo parlato fin troppo.